bentornati amici smokers in questo video andiamo a vedere insieme come accendere correttamente la pipa e come gestire la fumata intanto per cominciare con che cosa accendiamo questo è l'unico che non dobbiamo usare questo ce lo teniamo per i sigari e per le giornate ventose di mare una fiamma libera ci serve io solitamente uso questo è più comodo comodo da portare o anche un cerino che questi qua che adesso utilizzerò anche se non lo utilizzo sempre sono coraggioso carino no fa un po vintage per iniziare già abbiamo caricato anzi se immagino se siete neofiti state vedendo questo video se vi interessa approfondire l'argomento dei nel mio canale c'è la sezione la playlist fumare la pipa dove ci sono tutti dei piccoli tutorial su come iniziare insomma tra cui come caricare la pipa i primi tabacchi da scegliere eccetera vi lascio il link nella descrizione ma andiamo subito a vedere come accendere questa è una Savinelli primo fumo probabilmente è stata la mia prima pipa e probabilmente qualcuno di voi avrà anche questa attività andiamo ad accendere come avrete detto ho visto da altre persone va bene l'accensione in due fasi la prima vediamo 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 la prima fiamma si tira un po' la sta tirando bene questo tabacco un taglio ribbon si lascia accendere e fumare bene è un clan vedete come si è alzato con la prima fiamma si alza un po' allora si va a pigiare un po' leggermente andiamo a fare un piano e adesso c'è la seconda e definitiva accensione teoria è finita è finita adesso si può procedere con la fumata questo tabacco lo tenevo era da un po' che lo tenevo in cambusa ma non è cambiato per niente come gestire la fumata prima di spiegarvelo se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale cliccate la campanella per non perdervi i prossimi video e se vi è piaciuto il video lasciatemi un bel mi piace che mi aiuterà tantissimo la fumata per gestire la fumata la pipa non si fuma come un sicaro non si fanno folate di fumo gigantesche la pipa fa parte del fumo lento ma ha bisogna comunque fare delle piccole boccate dei piccoli chiamati puff a intervalli magari regolari questo si dice per non per fare in modo che non si spenga se si spegne qualche volta non è un dramma si riaccende solitamente si fanno due puff per fare per fare accendere per fare bruciare bene il tabacco allora il segreto per fumare bene fino alla fine è una fumata corretta e non far scaldare troppo il cannello il cannello si incomincia a scaldare dal basso come lo sentite un po tiepido non fa niente ma se scalda che comincia a scotticchiare aspettate lasciatelo riposare sembrerà tirerà meglio quindi sembrerà che la fumata è agevolata ma in realtà alla fine il tabacco sta bruciando velocemente non sentirete non disfrutterete delle proprietà del tabacco e alla fine della fumata vi brucerà maledettamente la lingua quindi è anche opportuno bere sempre qualcosa durante la fumata ognuno l'accompagna con la sua bevanda preferita in questo caso io colgo l'occasione per salutare brevemente una mia nuova amica youtuber scarlett brindo alla sua con un marzini brindo alla sua salute a presto scarlett e se la volete conoscere è simpaticissima vi lascio il link del suo canale nella descrizione e dopo di che continuiamo con la fumata fino alla fine ecco adesso si è spenta per l'appunto tante volte sento chiedere quante volte si riaccende nella fumata è ovvio che con il tempo imparerete l'accendo sempre meno in base al tabacco e come nella vostra esperienza come avete caricato sicuramente la riaccenderete molto meno però non muore nessuno io addirittura si può lasciare spengere in base a quello che si sta facendo e riaccendere dopo un po non dopo ore intanto il cannello si sarà affreddato e potremo terminare correttamente la nostra fumata godendoci correttamente il tabacco e anche per oggi conoscere in città compito ililda